Ho realizzato e ho messo insieme un po' la parte artistica, oltre che la storia personale, che ovviamente è quella che dà senso anche per quanto mi riguarda questa esposizione. Quindi io ho, come dire, amato sia la sua arte sia la persona. La misura delle cose è il titolo della mostra personale dell'artista retino Marcello Bianchi, promossa dalla moglie ed erede Tonina Tanda Bianchi, generosamente ospitata da Daniele Villicane e Maurizio D'Annibale, la mostra presenta al pubblico l'insieme dei lavori pittorici, grafici, fotografici e digitali compiuti dall'artista nell'arco di tempo dal 2006 al 2018, anno della prematura scomparsa. Avendo scoperto posto morte, perché lui non c'è più da tre anni, io sono diventata la sua erede e sono andata a vedere tutto quello che lui aveva fatto. E lì ho visto che lui aveva appuntato tutto, nominato tutto, segnato tutto, scritto tutto. Io pensavo scherzasse quando mi diceva tutto questo un giorno sarà tuo. Questa collezione di lavori è dunque la testimonianza del suo modo di intendere la serialità, ma anche la coerenza con la quale rappresentare sempre lo stesso soggetto. In questo caso ciotole di materiali diversi, di vario formato, ma sempre contenitori di quantità misurate. Recipienti di pensieri di modesta entità, quasi impercettibili ma misurabili. Immersioni invisibili che rendono evidente la modalità con la quale sono state create, come un tacquino, un appunto per un romanzo o un'idea perseguita dall'artista impedendogli di pensare ad altro. Si tratta di ciotoline di diversa fattura, contenitori di piccole dimensioni di fatto, che hanno, sembrano avere il compito dato dall'artista di contenere quantità misurate di cose. E da questo punto di vista, diciamo, quando ho realizzato io questo pensiero, mi sono accorta che inevitabilmente stavamo parlando di quantità misurate di pensiero. E il pensiero è un pensiero che, diciamo, ha il compito di essere rigoroso, di essere disciplinato, di essere, come posso dire, misurato, appunto, anche a contrasto, anche come, diciamo, una risposta precisa contro, diciamo, la vertigine, la dispersione vertiginosa dei nostri tempi. Ecco, secondo me questa è una delle sue lezioni e in questa mostra è questo ciò che vogliamo mettere in evidenza. La mostra sarà visitabile nelle sale espositive di Via Cavour fino al 14 novembre. Grazie.